Buonasera a tutti ragazzi da un Raku docciato o Luigi se preferite benvenuti a un video inaspettato nuova meccanica novità fresco fresco ragazzi è fresco mi sento Shisui di Medaka Box ne avrò scazzato il nome del personaggio però penso che abbiate capito il riferimento a quale personaggio almeno in alcune traduzioni la fresco comunque notizie di servizio è attualmente in vendita l'account di un mio amico non farò video sponsorizzazione tipo come ho fatto con Adriano voglio soltanto avvisarvi è un account direi completo Team Broly LR completo Team Vegeta IV a tutto penso che gli manchino solo Guan LR Magin Vegeta LR ma non sono neanche totalmente sicuro su questo nel caso foste interessati contattatemi che vi mando direttamente a parlare con lui vi faccio intermedia in modo da fargli avere il più possibile basta che vi mandate un messaggio il prezzo parte dalmeno 500-150 euro in quanto è completo di praticamente tutto vorrebbe provare a venderlo nel caso siate interessati non perdi tempo avvisatemi ma passiamo alle notizie bomba oltre il fatto che stanno iniziando i 200 milioni 7 giorni e iniziano ragazzi tanta roba nuova meccanica di gioco per il JAP le categorie o come piace chiamarla a me le classi questa meccanica dovrebbe entrare in vigore all'incirca verso il 25 o il 28 con una nuova manutenzione l'arrivo della batch di Califa no, di Caulifla che se no pensate che sia la Pornostar non sapo neanche dell'esistenza di questa Pornostar comunque dovrebbe entrare in vigore all'incirca quello è cosa conosciste tutti i PC del gioco pian pianino non dall'inizio ma pian pianino guadagneranno una classe l'esempio che è stato fatto è quello di molti delle batch di San Valentino o ragazzi in generale che guadagneranno la classe PC PC come si chiamavano aspettate fare bene la sceletta come si chiamava la PC PC Girl Magia del Cuore PC e anche le berbe di bellodi sono state citate comunque a parte le battute come funzionano le categorie in base all'evento che state facendo che pare saranno divisi tra 50 stamina e 20 di storia e quindi 25 stamina eccetera come già c'è la dicitura nei vari eventi che li suddividono queste categorie avranno bonus diversi ogni PG avrà una percentuale che varia adesso vedo un attimino che ho qua qualche immagine non c'è l'immagine precisa di quanto sia ma qua dovreste poter vedere una immagine qua alla mia sinistra o destra il team che vedete arriva a 110 di valore PC PC Girl lo so suona male suono una cosa di Doddy Dragoball PC PC Girl ma parliamone così per adesso questo valore in alcuni stage comporterà una percentuale di droppare così avranno alla fine dello stage un bonus ovvero i gusci di Mutant quelli che sono molto buoni per allenare quindi farsi un team PC PC Girls con cui magari si farma l'evento di Satan si farma gli eventi delle cavolo quelli facili vi permetterà probabilità di ottenere alla fine dello stage un oggetto anche raro bonus naturalmente fin quanto il valore è inferiore a 100 non è detto che lo otteniate una volta che arriva o supera il 100% ne otterrete per forza uno al completamento dello stage questo valore però come vi stavo dicendo varia in base al tipo di stage che affrontate in questo caso stiamo vedendo uno stage di colore azzurro che se non sbaglio sono gli story event se non erro magari con un 50 stamina l'effetto di PC PC Girl è ridurre i danni del 10% una volta che al 100% o di dare qualche key hanno già annunciato che ci saranno d'ora in poi dei leader che avranno come leader skill anche il potenziamento della classe quindi ragazzi aspettiamoci per agosto con l'inizio di un nuovo meta all'interno del meta dei Neo Gold Leader probabilmente ovvero il meta delle classi e ragazzi si pronuncia forse il meta più bello che Dokkan ha mai avuto perché finora l'evoluzione del meta di Dokkan era meta DPS no all'inizio era meta Rainbow alla casaccio da Broly fino a Full Power Freeze scusate e la meta DPS Tink and Fan Danno poi c'è stato il meta Gogeta poi c'è stato il meta Counter o comunque il meta God Leader in cui si andava con team di un determinato colore poi c'è stato il meta allineamento ovvero Rosè e Veget Blue e poi il meta colore allineamento in cui tutti i team utilizzati salvo chi voleva giocare Rainbow Super o Extreme giocava un team di un determinato colore allineamento un meta delle classi ragazzi è la cosa migliore che poteva accadere vi faccio un esempio un team che tutti vorrebbero giocare quasi ma che non ha senso essere giocato un team Grandi Scimmie benché Tarles Agile Leader sia grosso è un team che manca di sostanza e che succede se il Link se la classe Grandi Scimmie regalasse al PG che ne so al 100% un bonus di chi o di attacco magari l'uscita di un Baby Grande Scimmia che ha come Leader Skill la rischio normale e poi la classe Grandi Scimmie si becca più 2 chi e poi il Link Grande Scimmia è più 30% d'attacco e intanto ha comunque una sua Leader Skill questo Baby Grande Scimmia questo è un'idea che secondo me se fatta bene perché comunque anche l'Ability Charter è un'idea che sulla carta era bella e ha finito per distruggere quasi il gioco rendendo PG con Ability praticamente delle cose che giocano da solo che non è il minimo senso logico di esistere basta pensare al team Super STR con Ability addirittura il team Super Tech Ability completa Super Fisico Extreme Tech che roba che shotta qualsiasi cosa così tac morto tac morto tac morto poi alcuni di questi rischiano anche di fare tac non mi ha ucciso ti ammazzo io ma è in soldoni è così e quindi potrebbero rovinarlo ma non è detto dobbiamo dargli fiducia secondo me dobbiamo dargli fiducia come vi dicevo come vi dicevo ci sarà un modo per ci saranno man mano aggiunte varie categorie non si sa con che cadenza non si sa quali categorie usciranno di sicuro aspettatevi forse non il 25 perché comunque lavoro adesso di tutto un lavoro giornaliero che pare mi abbiano preso quindi i video io d'ora in poi li sto facendo la sera prima e li carico quando sono in pausa pranzo da mio padre quindi mi svolgo così la giornata infatti sapete che rispondo molto meno su facebook altro perché ho poco tempo ragazzi tolto il sabato e la domenica non ho davvero quasi tempo di rispondere a nessuno salvo un giro veloce su youtube e ogni tanto nei messaggi di facebook ho 101 notifiche su facebook e chissà quanto rimarranno prima che abbia il tempo di toccarle quindi quindi per non probabile fine settimana prossimo che faccio un bel video di Doc & School sulle categorie e ci saranno video analisi sulle categorie in cui proveremo anche a vedere i team come girano sta per nascere un doc cam bello poi magari ragazzi magari non cambierà un cavolo si va con i soliti team i soliti team ammazzano tutto solita storia ma la cosa bella è poter variare una cosa che molti non capiscono è che non esiste solo il team che ti fa l'evento in due secondi perché boom shot boom shot boom shot non esiste solo il team che te lo fa magari in dieci minuti con non ricevo danno ti attacco non ricevo danno counter ti ammazzo esiste anche il volersi divertire a giocare esiste anche il voler divertirsi con altri team vedere come fare alcune battaglie con altri team il gusto dello sperimentare il gusto di pullare un pg che fa schifo magari ma sapere che c'è un modo di usarlo docker in questo momento non ha queste cose guardate l'immagine se voi pullate c18 san valentino è un pg buttato ormai pandel brapan è buttata quella bulma è buttata magari invece questo team qua diventa divertente usare per degli eventi più facili perché droppi di più capite quindi è un'idea ottima sono felice avrei preferito le info sulle passie modificabili in quanto è una cosa che io spero copino da final fight i brave ex anche se anche quello rischia di distruggere completamente il gioco se lo fanno male ma la speranza è l'ultimo a morire rimanete sintonizzati ormai siamo a 7 giorni dal 200 milioni 7 giorni dai ticket farò il video per i ticket state tranquilli e poi si passerà a metà agosto in cui probabilmente arriveranno a sto punto gogete e omega e già ho tante belle aspettative una bella classe shadow dragon in cui alcuni draghi diventano giocapili magari nuovi draghi o roba simile io ho aspettative che questi due anni e mezzo di doc mi diano nuova linfa al gioco quindi ragazzi noi ci vediamo domani con un nuovo video che non ho idea di quale sia dato che li preparo ogni 24 ore un saluto da me e dal sommo profeta che questo però non l'aveva predetto una buona serata e alla prossima e si testate gli capelli non me li asciugo sta più freschi grazie a tutti